fabbio beh che è successo il canale stai crollando fra qui che fai e vieni i maglietti tarocchi allora buonasera a tutti che è successo la bremer 40 più 7 bremer alla juventus ufficiale mamma mia nata figura di merda che fai che figura di tacca purtroppo a me la gente supponente si accende ma deve sempre fastidio a me naturalmente meno male che il tuo canale sta crollando grazie a dio stanno stai sempre scendendo 61.600 scendete sempre di più scendete sempre di più quello deve rimanere da solo deve rimanere dopo questa mega figuraccia che ha fatto non si permettesse neanche di aprire più le live come bremer ha scelto la juventus naturalmente noi come i morti di fame abbiamo fatto 30 più 7 la quando 30 più 7 casa di ma fa raul casadegui che suonava la sarmone che la suonava da recombra sopra qui salta bremer sal di bala salta come io avevo preventivato e non lo volevo grazie a dio di bremer veramente mi dispiace sono deluso e non me ne frega niente se scrignano rimane anzi avrei voluto scrignare e bremer insieme la juventus che tutto quanto stavamo dando io giustamente tutti quando hanno preso un 34 hanno preso un trentenne ma pigliano a questo qua se ci facciano i chini chini città città ci facciano la squadra sicuramente prenderà anche qualcun altro noi si rimaniamo diciamo con quelli dell'anno scorso devrai non se ne va più voi vedrete che la di che l'inter rimane con devrai a scrigno arriva dove a schiene basta scrigno se non c'è più forse potessi pure che se non vuoi qui si stanno senza soldi non possono venire non possono accattare e in più su a youtube abbiamo i pallonari che ci hanno sventolato ai quattro venti era fatta era fatta mi sono mi piace la caricatura la terrazza mi sono mi piace di burro sei sicuro là ma di chi manca la vita ha preso a questi stupi d'arecchio lo tornando a quello là dice mamma mia se mi sa di questo ma è normale che ti ha di questo è normale che ti ha di questo tre vite alla notte raccontate 36 minuti ma che dico le vite aveva fatto scritto un video di un minuto scusatemi 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 ho fallito ho fallito ho fallito ora non vengo a fare un prevedo avevo un prevedo però bisogna metterci la faccia e stiamo sempre parlando di calcio ah quando ha zic però quando ha zic però vi sventolano la bandiera io sono il migliore io capisco io sono quello quando può sbagliare e vabbè però io l'avevo detto siamo sempre parlando di calcio praticamente non lo credo a noi praticamente si è furbo si tu sei tu sei vanno a marco si ma oggi stiamo chiamando vanno a marco vanno a bere come i marchi tu devi venire in crema e sciogli i panci devi venire tu il mangi il duca il vater il vater a chi l'ha vestito il duca è sparito e io dico a conti che sei a mezz'ora dici che fannozzi e tu sei fannozzi si poi ogni tanto si porti i femmine là ma vediamo i prossimi live che fai quando ha soldato tempo tu fai la mente proprio mamma mia hai capito cioè praticamente non lo credo a me quando a zic conti l'aveva detto cosa avevano pure i prevedo che avevano detto luca che è fallito di bello è fallito mertensi è fallito tonno è fallito di bello è fallito di bello è fallito giro è fallito tu è fallito da quando sei nato come diceva totò in quel film là e quello è stato l'errore pasquale mì tu non dovevi nasci scusami se sono nato cosa vuoi fare oramai ci sei ha ricordato un film totò visto che su queste camere una è un film molto famoso comunque insomma dico che dopo questa ennesima figuraccia grazie a Dio molta gente si iniziano da capire che mi fanno rita ma voi non ci mettete la faccia ma abbiamo capito allora che vi credo che non te li buscano mai sbaglioci a massaggiare la zicca è più un fenomeno che vince stavate è fallito dappertutto quindi ti prendi critica critica è critica ti prendi caro pallonaro la vita è così quando segnate le carte non mi criticavano a me poi mi prendi la rivincita ma la rivincita io mi prendi la rivincita per il secondo te lo prendi il prossimo acquisto satrino forse lo prendi e dite che scrivono rimane mamma mia tu tutti quelli che dici sapere il contrario sapere purtroppo anche per gli altri che non mi capiscono dovete capire che io su youtube uso uso il dialetto foggiano e l'italiano arcaico dovete incominciare a capire le due lingue lo so e forse siete abituati ai canali dei milanesi la iso fuggio non so faccio sentire la mia foggianità se non capisci il foggiano puoi sempre cambiare canale non tu dici migliore a te e se non ti piace quanto credo che ma sua maestà puoi sempre cambiare canale quasi credo che c'avano turisti eravate amici nero amicizia sabone rinzaldessa buona sfascia ne perché miei compagni di derivata a capa scuola milano sia amica me adesso faccio la traduzione perché incapaci purtroppo l'incapace deve essere il beota come si dice deve essere purtroppo avallato cioè non è che mi accompagna due volte con la macchina a milano e mi ha offerto una cena sia amico per la mia mio amico per sempre con la pelle io adesso praticamente sono in un momento di stallo anche con il mio caro amico presidente con il mi conosco da 30 anni con quel quale è un amicizio rinzaldato eppure anche con lui ci stanno stiamo avendo dei disguidi di proprio fuggito che te che ci hanno visto di navate e mezza cacca che ci hanno visto poi dici che sono questi amici sguardo che sono questi amici chi mi conosco comunque i fallimenti compa quando ti prendi è fatta è fatta è fatta è fatta la responsabilità di prendere non è più un gioco un divertimento il divertimento è bello solamente quando gli zicchi che ti hanno esaltato proprio quando sbagli ti prendi tutta una merda in bacio che devi prendere capire senza che scrivi d'ambrò che legge pure i commenti tu o quello canale fa solo che ti al foggiano basta la lezione o fuggire da lezione 30-200 mila e ti sbattere la merda un bacio pure a te caro d'ambrò 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 anche il campo d'ambrò pigli una corda in bec che cazzo cambia a fare sotto a tutti i canali a credere che ogni cosa che faccia ti senti d'ambrò che tenga ragione soprattutto tutto tenga ragione tutto tutto tu e i tuoi amici state fallendo su tutto l'inglese sta riemergendo piano piano dalle ceneri a ricordati l'inglese non muore mai invece sta sotto i video della tascatta perché poi ti faccio pagare tutto quello perché tengo una memoria di firma che mi ricordo di tutto mi ricordo tutte le stronzate che hai due anni fa tre anni fa i migliori quella è l'unica cosa che purtroppo madre natura madonna che si importa la memoria non mi scorda niente non mi scorda niente una grandissima numero con tutto 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 quindi purtroppo il cazzaro del pallone il pallonaro quando sbaglia devi essere punito dal web come è giusto che sia devi essere punito è fallito chiudi questi live venite facendo chiudi hai detto già da notte lo vedi hai fatto tre vedi da 26 minuti che mente contorta tre vedi da 26 minuti mi fanno vedi da 33 minuti ha fatto tre vedi per lucrare ancora soldi sulla gente capi perché con quei tre video 15 euro 20 euro e 30 euro proprio uno schifo proprio uno schifo una cosa vergognosa ha ancora clic rubati capi perché non puoi fare i live ha dovuto rubare altri tre video alla gente e qui come i fessi a cliccare cioè dico ma questo qua voglio fregare a noi che avevamo 15 anni di esperienza qua solo ma puoi fregare a te i fessi come te puoi fregare a quei 12 anni 15 anni quattro 15 anni non c'è fria ma non mi frega nessuno a me è lucrato perché non hai potuto fare i live hai fregato i soldi pure sopra quelli tec perché hai spazzato tre vedi pazza di incompetente che non sei altro ma tanto ti punirai ti punisce il ti punirai il popolo il popolo ti punisce sei rimasto con quelli qua attaccato un amico tu che sono con te amico mio sei il migliore il migliore intrattenito tu sei il migliore intrattenito ma quale intrattenito se sei un intrattenito faccio come che faccio ma anche quello si fa a sparare palle si spara spi di palle ma perché non vuoi non girare un canale spara palle sul calciomercato secondo me azzecca a me la gritta è diventato un buon antidoto nel senso che faccio le fonti delle fonti il problema è che poi ti sei saltato di nuovo con la convinzione di stante anche premere di bello ma che faccio un fucurone capisci che è un problema che c'è da succedere l'imponderabile l'imponderabile è successo l'imponderabile è successo l'imponderabile è successo l'imponderabile e tu ci pichino da quello posto hai visto non è sicuro a questo mondo ce l'ho fatta ce l'ho fatta arriva qui le conoscenze in tiff e te frega come la maratona la corsa che brutta mamma mia iscrizione al canale voglio il canale serio gentilmente e togliete l'iscrizione da quell'altro dei canali dei pagliacci grazie 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 grazie